Siamo qui con Ivan Colombo autore di una doppietta nella vittoria del Puma Team sul Real Fire per 4 a 1 al primo tempo un pochino più equilibrato nella ripresa avete preso il largo sì il primo tempo ci siamo un attimino non dico spaventati però una squadra nuova non la conoscevamo quindi sai dovevamo prendere un attimino le misure capire con chi ci confrontavamo poi il secondo tempo diciamo che siamo venuti fuori abbastanza bene siamo riusciti a esprimere il nostro gioco che abbiamo di solito e fortunatamente o comunque per meritata cosa l'abbiamo portata a casa insomma dai. In attesa di vedere quello che hanno fatto le altre siete sempre lì per il secondo posto? Per il secondo posto purtroppo perché comunque siamo una squadra che potrebbe magari pretendere anche qualcosina di più di questo secondo posto però ce la giochiamo fino in fondo con tutti e speriamo che poi le cose ci siano di aiuto anche insomma. Va bene allora ti consegno il Gatorade e la statuetta del Man of the Match ciao ciao grazie grazie a te